Allora, l'ufficio apre oggi per la Confesia Scensi, Piazza Santa Maria Maggiore X, Mondovia, il primo piano. Nasce da un bisogno di dare assistenza all'azienda, ma assistenza come si deve in tutti i sensi, dai finanziamenti alla voce che dobbiamo portare a Roma, io direi, in Regione e a Roma. Siamo scopri di parlare solo al bar, le aziende hanno bisogno veramente di voce. Spero di dargliela con questa iniziativa.